Salve a tutti, mi chiamo Sofia del Papa e frequento il primo anno di Prevedeutico di Pianoforte. Il mio professore è Mare Spandelliaris e adesso vi suonerò il terzo tempo della prima sonatina classica di Clementi dell'Opera 36. Grazie a tutti. Grazie al Conservatorio per questa opportunità saluto il mio professore e buona giornata a tutti.